Dopo aver affrontato il catalogo di Capture One, e vi lascio un link sotto a questo video dove potete vedere questo primo capitolo se ancora non l'avete visto, oggi vi parlo delle sessioni. Allora prima di cominciare a vedere come si creano, come si implementano, come ci si lavora, vi dico che la differenza principale fra catalogo e sessione è che la sessione è un po' un oggetto a sé stante, completo, nel senso nelle quattro directory che vengono create quando io creo una sessione, poi le vedremo insieme, c'è tutto, ci sono i file originali, ci sono i file scartati, ci sono i file elaborati, c'è anche un database ma è molto piccolo perché le varie modifiche che noi effettuiamo sono in piccoli file che hanno come estensione un punto cos, mentre nel catalogo i file come sapete bene possono essere da tutt'altra parte, possono essersi nel catalogo ma anche esterni, come vi ho sempre consigliato. Tutte le modifiche sono dentro questo catalogo che è molto corposo, le immagini elaborate possono essere chissà dove, quindi diciamo che è una struttura molto diversa, il catalogo ha aglias che possono collegarsi a dischi esterni, ovunque, la sessione è un blocco unico e quindi un metodo di lavoro abbastanza diverso. Vi ricordo ancora che la sessione è nata con Capture One, anzi è stato il primo metodo di lavoro di Capture One perché Capture One è stato studiato per lavorare con i dorsi digitali, quindi la sessione è stata la prima, diciamo il primo database di Capture One, successivamente dal settim poi è stato implementato anche al catalogo. Adesso andiamo a vedere insieme come si lavora con la sessione. Andiamo adesso a creare una sessione di Capture One, facciamo nuova sessione, diamo nome alla sessione, verrà creata fisicamente una cartella sul nostro computer chiamata sessione di teste e quattro sottodirettori sottocartelle acquisizioni, creiamo, ecco la nostra sessione di teste, andiamo a vedere nel finder, sessione di test, quattro sottocartelle chiamate acquisizioni, queste le ho nominate, questi sono i nomi di default che crea Capture quando io creo una sessione nuova. La struttura sono automaticamente create quattro cartelle di sessione e due album intelligenti, un album che raccoglierà tutte le immagini che io valuto 5 stelle e tutte le immagini stesse. Vi spiego la logica, la cartella acquisizioni si chiama acquisizioni anche se sembra un po' strano perché Capture One è nato come un software per importare direttamente le immagini da dorsi digitali o da macchine fotografiche digitali. Vi ho già spiegato questa parte che sarebbe il tethering in un altro video o nell'altro articolo, quindi tutte le immagini che io andrò a importare le posso importare fisicamente nella cartella acquisizioni, poi c'è una cartella chiamata cartella in cui andrò a spostare tutte le foto per dire per me migliori quindi della lavorare, la cartella di output in cui io troverò tutte le foto post prodotte e la cartella di cestino che è una cartella di cestino che è presente sì fisicamente dentro la mia cartella principale di sessione però è una cartella virtuale nella logica del database creato dalla sessione stessa. Andiamo adesso a fare l'importazione, prima di fare l'importazione vi voglio far vedere una cosa che nella sessione a differenza del catalogo in cui non vedo tutto l'albero delle directory del mio computer io vedo tutto il mio computer questo è il mio hard disk esterno chiamato personali se io vado a prendere la directory dove ho tutte le mie immagini io già da qui posso lavorare le immagini posso modificarle posso cancellarle non vi consiglio di lavorare in questo modo anche se è un modo molto intuitivo molto semplice perché io quando cancello la foto la cancello fisicamente dal mio sistema quindi vi consiglio sempre di importarle per questo andiamo nella fase di importazione la fase di importazione il sistema capture rune mi chiederà sempre da dove importarle andiamo a selezionare la cartella che è sempre la solita andiamo nel mio hard disk esterno e andiamo a selezionare tutti i rough presenti anche qua posso scegliere come ordinare le foto come nel catalogo possa anche eventualmente includere delle sottocartelle ed escludere eventuali foto duplicate qui posso scegliere dove andarle importare nella cartella acquisizioni nella cartella sessione quindi le foto non verranno spostate nella directory acquisizioni ma direttamente sotto la cartella nella cartella di sessione sessione test oppure posso anche selezionare una un'altra cartella io posso per dire scegliere una cartella crearla crearla fisicamente andare a spostare tutte le foto in una cartella che seleziono io che è un altro metodo di lavoro il metodo più semplice che combacia con la filosofia di sessione di capture rune è quella di importarle nella cartella acquisizioni anche qua posso abilitare o meno il backup quindi tanto che coppio le foto per dire della mia schedina sd nella cartella di sessione posso anche abilitare il backup di tutte le foto quindi la doppia copia che sempre la sicurezza su un altro hard disk esterno posso nominare le immagini come vi ho fatto vedere nel catalogo e posso mettere i dati di copyright importiamo adesso tutte le foto e me lo ritroverò nella cartella acquisizioni e saranno spostate fisicamente nella cartella acquisizioni quindi mi ritrovo la mia cartella sessione test e la sottodiretta della cartella acquisizioni dove vedete pian piano vengono copiate tutte le foto quindi mi ritrovo le posso vedere da qui oppure nell'album tutte le immagini come ho fatto vedere su un altro intelligente creati di default della sessione una volta finita la fase di importazione io posso cominciare a selezionare le foto che andrò poi a elaborare le posso portare nella cartella selezioni o fisicamente quindi trascinandole col mouse oppure tramite questo strumento di capturamenti selezionare man mano al volo e spostarle al volo come vedete il sistema mi avvisa che i file verranno spostati fisicamente dalla mia cartella acquisizioni alla cartella selezioni quindi man mano che io le vado a selezionare caleranno dalla cartella acquisizioni quindi non è come nel catalogo che è un diciamo sono collegamenti sono degli alias virtuali qui l'ho proprio esposto fisicamente quindi mi ritroverò meno foto nella cartella acquisizioni e alcune foto che ho selezionato dalla cartella selezioni questo anche fisicamente se vado a vedere la mia cartella sessioni di teste nella cartella acquisizioni rimando con quelle foto che non ho selezionato nella cartella selezioni ci sono le foto che ho selezionato quindi vedete bene le sposto fisicamente una volta che finita la nostra selezione delle immagini andiamo nella cartella selezioni dove appunto sono raccolte le foto che io voglio elaborare prendiamo una foto andiamo a fare una modifica cambiamo per dire il profilo colore una volta fatta queste modifiche andiamo nella fase di post produzione supponiamo di volerlo salvare in jpeg andiamo nell'elaborazione adesso capture one sta elaborando l'immagine e mi ritroverò poi il file spostato nella cartella di output una volta che avrà finito me la ritrovo in questa cartella e fisicamente me la ritroverò anche nella cartella di output aspettiamo che finisca il lavoro vedete adesso me la ritrovo nella cartella di output e fisicamente nel mio computer me la ritrovo il file nella cartella di output come vi ho fatto vedere la sessione crea anche degli album intelligenti ha creato l'album 5 stelle se io vado nella mia cartella selezioni reputo che questa immagine è tra le migliori che ho fatto su quelle selezionate quindi la vado a classificare come 5 stelle me la ritroverò nel nella cartella 5 stelle come nel catalogo posso creare gli altri album intelligenti o meno posso creare un album in cui mi ritrovo tutte le cartelle che io valuto rosse tutte le foto che ho valuto rosse se vado nella cartella selezioni questa è la valutata rossa e me la ritrovo nella nel mio album intelligente rosse in questo articolo vi ho spiegato allora qual è la filosofia della sessione di capture one vi ho spiegato come si crea la sessione come vengono create quattro sottocartelle directory automaticamente dal sistema come si possono volendo rinominare come si importano le foto dentro la nostra sessione vi ho fatto vedere anche che si può lavorare esternamente alla sessione nel senso non va ad importare le foto ma le vado a pescare dentro una cartella del mio sistema cosa comunque che vi sconsiglio vi ho fatto vedere quindi la filosofia dove sono le foto quando vengono cestinate dove sono le foto quando vengono elaborate vi ho fatto vedere che si possono creare album a colore stelle quindi vi ho spiegato un po quella che è la filosofia della sessione di capture one se vi è piaciuto questo articolo mettete un like ricordate di fare la sottoscrizione spuntate la campanellina e ci vediamo al prossimo articolo sempre su capture one